Emergenza ucraina, il prefetto di Torino Ruberto ha convocato i comitati per la sicurezza del Piemonte per l'arrivo dei profughi, si moltiplicano le iniziative di pace e di preghia. Il prefetto di Torino Raffaele Ruberto convoca tutti i comitati per la sicurezza del Piemonte per far fronte alla nuova emergenza, l'arrivo dei profughi ucraini. E l'ordine pubblico regionale diventa anche aiuto all'emergenza umanitaria. Gian Piero Amandola. L'ordine pubblico è anche solidarietà, questo dice la relazione del prefetto di Torino Raffaele Ruberto davanti a tutti i comitati di sicurezza piemontesi. Intanto porte aperte ai profughi ucraini che arrivano senza visti e neanche richiesta d'asilo. E uomini delle forze dell'ordine, di comuni, regioni si alleano a quelle del volontariato perché il primo principio dell'ordine pubblico è salvaguardare chi è vittima. Per ora ci sono solo i vecchi CAS, i centri di accoglienza straordinaria, possono accogliere appena 100 persone. Ma l'alleanza col volontariato dovrebbe portare l'ospitalità di altre strutture e accoglienza privata. Ovviamente, come precisa il prefetto, deve essere un ingresso ordinato. In maniera che sappiamo chi arriva, dove va e si possa quindi organizzare un'accoglienza più ordinata. Il presidente della regione Alberto Cirio fa un appello ai piemontesi ad accogliere e assicura che il coordinamento emergenza ucraina si muoverà su priorità quali l'ospedale del campo di Levaldigi. Assieme a un altro spagnolo è la struttura che l'Unione Europea può usare in questi casi. Poi c'è la ricerca dei farmaci che farà la fondazione Onlus Federfarmaci. Ma il presidente è molto orgoglioso del salvataggio in queste ore di 7 bambini ucraini malati oncologici rimasti senza ospedale per portarli a regina Margherita. Viaggiano con tre fratellini, poi sono accompagnati dai genitori. Andremo a prenderli tra sabato e domenica al confine tra la Moldavia e l'Ucraina. Il sindaco di Torino Stefano Lorusso garantisce la concordia istituzionale. Per dare quanto prima una adeguata accoglienza ai profughi in arrivo dall'Ucraina. Non è una regione tranquilla quella che si trova a fronteggiare questa emergenza. La conta dei reati vede un aumento del 30% rispetto al 2020 in lockdown. In particolar modo i maltrattamenti familiari, i furti e i reati informatici. E adesso ci sono anche le mafie attorno ai fondi del PNRR. Il prefetto spera che l'associarsi di lotta al crimine e aiuti ai più deboli porti a una regione migliore.